Ciao a tutti da Nick e bentornati su Eurotrack Simulator 2 in un nuovo gameplay Allora ragazzi oggi ho deciso di fare insieme a voi un trasporto speciale Ho quindi selezionato soltanto i trasporti speciali E ne ho scelto uno abbastanza lungo perché Perché volevo un po' portarvene uno un po' più lungo del solito di viaggio Quanto meno di quello speciale Quindi ho selezionato un lavoro qui in Francia Praticamente partiamo da Nantes e arriviamo a Cicvaux qualcosa di simile Utilizzeremo un Iveco come mezzo E trasporteremo un grande pezzo Beh sicuramente grande Un pezzo meccanico di grandi dimensioni giustamente Non poteva essere piccolo 25.000 euro di guadagno per 400 km Ovviamente sudati perché non sarà facile Quindi accetta il lavoro Come potete notare c'è il mio Logitech G29 in alto a destra Il mio volante Quindi si va Se parte tra un attimo tempo che carichiamo Il volante è a posto Bello bello morbido Così non faccio fatica nella guida Allora dai Mi sistemo un po' qui le maniche Tanto ormai sta arrivando l'estate Quindi comincio a fare un po' di caldo Oltretutto Mi mancano solo i guanti ma va bene così Allora Che è un pacco gigante Farò un po' fatica mi sa con questo Farò fatica a trasportare sto bestione Perché è un po' È un po' grande Diciamo È un po' grandicello Occupa un bel po' La strada Diciamo Eh già Allora Che è? State pulendo? Non ho capito Che state facendo? Buono è Tiene Il capo tiene Stai tranquillo Tiene Speriamo Ho sentito Ma chi è quello? Ma che fa quella? Si fa i selfie? Quella si fa i selfie? Allora Stai per affrontare un trasporto speciale? Sì sì lo so Allora Dunque Accendiamo il motore Al lavoro Al lavoro Non c'è ombra di dubbio Non mi ricordo qual è il tasto per i fari Quindi uso la tastiera Da qua ci siamo Fai una mano Lo possiamo togliere E penso che possiamo partire no? Vediamo Ah devo accendere i lampeggianti Eccolo qua raga Guardate quanto è bello Ci abbiamo un gran bel pacco E non capite male Mi raccomando Perfetto Abbiamo un pacco così gigante Guarda che tutte le ragazze si girano a guardarlo Ok era una battuta Era una battuta Punto Non dico altro Allora C'è la scorta C'è la scorta Che mi scorta Ci passo vero? C'ho un po' di paura Ma spero che ci passo Mica devo guardare dietro No Voltare a destra Non c'è dubbio che vado a destra Ok eccoli C'è la miseria Sono andato a sbattere Ma dove? No Sono andato a sbattere col posteriore Ok aspetta un attimo Cominciamo bene Cominciamo proprio bene Già sbatte il posteriore A sto punto Mi tocca proprio buttarmi qua sopra Vale Ce l'ho fatta Eh non mi andava di fare una manovra così larga Ma a quanto pare era necessaria Allora mi sono scelto quindi uno dei viaggi più lunghi che c'è nel gioco Oltretutto col pacco più grosso Quindi prevedo incidenti Li prevedo Cioè Già guarda Guarda dove mi trovo Mi trovo in un posto così piccolo e stretto Cavolo Voltare a sinistra Eh un attimo Non c'è bisogno che guarda a sinistra Vero tanto Oh Pio il palo Prepararsi a voltare a destra Prepararsi meno male che carburante c'è Ovviamente Voltare a destra E poi continuare dritto Sta bene il navigatore Ma sinceramente il navigatore non mi serve Ho la mia bellissima scorta lì davanti Ecco Se non piglio i paletti E quello è il mio problema Se non piglio i paletti E' già un miracolo che ci so passato Guarda Uscire adesso Uscire adesso Tu aspetta un attimo Eh dammi il tempo Ok ci stanno i paletti sulla destra Sono pericoloso Eeeh Salve Che vi ho detto io Tutti che si girano a guardare il pacco Vedi Abbiamo un grande pacco Noi Eeeh No qua Come famo Mancavano pure i pompieri Anche loro ce l'hanno grande Il mezzo La rotatoria Prendere la seconda uscita Oh porca miseria Cosa ho preso Boh Avanti Cipollino Cammina dai Che sono professionista Vai Non ti preoccupare Come no Ci manca che passi il treno E mi porta via Eh mi sono scelto un gran bel lavoro Devo dire Uscire adesso Un attimo Ok Neanche le frecce sto a mettere Sono così concentrato Sui paletti Oh Cos'è l'autostrada Speriamo che possiamo andare Un po' veloci Perché Sinceramente a me Di stare in paese Qua mi ha un po' stressato Alla rotatoria Prendere la prima uscita Eh basta Con ste rotanti qua Quante cacchio ne avete messe Troppe ruote Ci avete Troppe rotanti Avete messo Ci stanno troppe rotonde Per i miei gusti Ok Eh cavolo Se perde il pacco qua Meno male Sono così intelligenti Quelli che si fermano No no che sono intelligenti No no Nel senso che Come cavolo fanno A sapere che arrivavo io Non si sa Eravamo ancora lontani Con tutta la scorta Ma lui già sapeva Che io dovevo passare Oh Qua mi dice a me Il limite di 60 E io Ci provo Se riesco Metto anche Il cruise control Eccolo là Ok Finalmente un po' di relax Finalmente ragazzi Un po' di relax Qui in autostrada Sì come no Già dobbiamo uscire Tenersi a destra E poi uscire a destra Eh che oh Vabbè ovviamente Penso che rimaniamo Sempre in autostrada No eh Uscire a destra Sì Nantes Nantes Prendere la prima uscita Ancora A quante cavolo Di rotonde ci avete messo Sto povero posto Uscire adesso Un attimo Pure la freccia ho messo Guarda Sto migliorando Sto diventando più bravo Metto anche le frecce ora Mentre che guardi i paletti Era da un bel po' no? Che non portavo Un Eurotrack Con i trasporti speciali Su Youtube Vero raga Ne è passato di tempo Meno male Eurotrack Lo porto diciamo Molto spesso In live Molto spesso Porto Eurotrack In live Ma su Twitch Però eh Se vi va Se vi va Di passare A trovarmi in live Raga Link in descrizione Del mio canale Twitch Uscire adesso Faccio le live Tutti i giorni Tranne Il lunedì Nel pomeriggio Un'altra cosa Ragazzi Attualmente C'è in corso Su Instant Gaming Diciamo così Un Chiamiamolo evento Potete vincere un gioco A vostra scelta Non mi ricordo Quando è che scade Ma penso Che insomma In base a quando guardate Il video Comunque Qualche settimana di tempo Per partecipare Guardate in descrizione Insomma Cercate Vinci un gioco A tua scelta In descrizione Qualcosa di simile Partecipate Non costa nulla Allora Adesso uscito Ha detto Ma tu poliziotto Proprio lì Dove devi mettere Dico io Uscire adesso Eh un attimo Wow Ma che c'è la famo Campagne Campagne Quante rotonde ho affrontato Oggi Ragazzi Veramente No Io non le ho contate Ma voi le avete contate Le rotonde Cioè io non lo so Come minimo Saranno già 6-7 rotonde Che faccio Minimo Ma forse anche di più Ammazza In Francia Si sono divertiti Con le rotonde Poi se uno si sente male Con tutte queste rotonde Metti che mangia troppo Allora Un po' di tranquillità Non c'è nessuno In giro Finalmente posso guidare Un po' in pace Ma immagino che c'è Un'altra rotonda Lì davanti Vero o no Non c'è la rotonda C'è proprio L'ingrocio Stavolta C'è stava Un'altra macchina Del trasporto Lì parcheggiata Non si sa Per quale motivo Preparassi a voltare A sinistra Se quello si ferma Ma fa un favore Se quello si ferma A me Fa un favore A posto Diamo un po' Sto bel pacchetto Qua Yeah Eh cavolo Se non era così largo Era un lavoro Normale Secondo me Eh che è molto largo Ed è un po' complicato A fare le manovre Oh ma che bella Fattoria Ci stanno le mucche Sono imbalsamate Oh che cacchio Ti rallenti tu Cammina Io guardo l'ambiente E questo mi rallenta Davanti Per farmi Scherzetti Allora Siamo insomma In zona campagna Qui Della Francia Zona campagnola C'è una macchina Della polizia All'incrocio Eh stanno tenendo D'occhio la situazione Per farci passare Bello che non c'è Anima viva Ti cammina bene Io schiaccio Sull'acceleratore Guarda Se quello Cammina Buono Io vado pure Veloce Ho parlato Presto Non va mica Tanto veloce Questo Dai Cipollino A spingere A sta macchina Dai Oh oh Bravo Bravo Fagli capire Che si deve Mettere da parte Bravo Eh quante Balle Di paglia Mi hanno fatto Un botto Allora Tengo d'occhio La situazione Ah mi raccomando Fallo stringere A questo Qui pure Blocca La strada Le uscite Quello che fa Bravo Si è fermato Ma come intelligente Mi piace Voltare a sinistra Voltare a sinistra Ecco Bravissimo Rimani lì Perfetto Perfetto Ok Finchè le cose Stanno così Ok Cacchio Mo vedo nel navigatore Che qui davanti C'è da fare Un po' Di manovre No Guarda Una rotatoria Prendere la seconda uscita No ma è una mini Rotatoria Questa Dai se mi concentro Ce la faccio Voi continuate a contare Le rotonde Uscire adesso Poi a fine video Mi dite quante Ne avete contato Il gioco delle rotonde Speriamo che non passa Nessuno in curva Va Così me la faccio Tranquillo Sta curvetta A posto Insomma Va Campagna Campagna Stiamo a portare Un megapacco Chissà che cacchio C'è lì dentro E chi lo sa Magari c'è una casa Prefabbricata Chi lo sa No vabbè C'era scritto Che era Un pezzo Meccanico Ammazza Un pezzo Meccanico Uno E' un pezzo Pensa un po' Tutti gli altri pezzi Messi insieme Che costruzione Salta fuori E' solo un pezzo Pensa un po' Che succede Quando li montiamo Tutti Potrebbe essere Un pezzo Di una paleolica Potrebbe essere Il motore Cioè il generatore Potrebbe essere Chi lo sa Quanto manca? 276 km Eh questo si E' un bel viaggio lungo Si Mi sono scelto Un viaggetto lunghino Non c'è dubbio Siamo arrivati A Vallette Un paesino lungo 200 metri Come siamo entrati Siamo già usciti Però non si fanno mancare La rotonda Prendere la seconda uscita Neanche loro Neanche loro si fanno mancare La rotata Atente Tante Porca Ma cacchio Uscire adesso La rotonda Non se la fanno mancare Neanche loro Quei vado E se manca la rotonda E' una tragedia Cittadina Dice senza la rotonda Va Come si fa Dice Passa una macchina Ogni cent'anni Ma noi la rotonda Ce la facciamo lo stesso Perché a noi piace La rotonda Soprattutto L'isoletta centrale Molto bella Oh Qui accanto ragazzi Come potete notare C'è un bel vigneto C'è un gran bel vigneto Qui alla nostra destra Quindi Ne ricaveremo Tantissimo vino Ci ubriacheremo E guideremo Un trasporto speciale A quando mai Trasporti speciali Si fanno da sobri Naturalmente Bello Comunque Meno male Che non c'è Molto traffico Va Ho parlato Presto Mi dovevo Stare zitto Me ne dovevo Star zitto Ho pure Sbattuto Ma tanto Il pacco Non si è fatto niente Meno male Allora Sbattuto Meno male Sbattuto Sbattuto Mi dovevo